È stata presentata una nuova collezione per la città, la Roggia 1970-2020, mostra che sarà inaugurata presso il Museo Civico d'Arte di Pordenone sabato 24 giugno alle ore 18. L'esposizione presenta una settantina di opere che l'Associazione Culturale La Roggia ha donato al Comune di Pordenone e documenta l'attività culturale durata cinque decenni, nella quale il sodalizio ha promosso, diffuso e valorizzato, le arti visive contemporanee, con un particolare riguardo al nostro territorio. Sono numerosi gli artisti di pregio che si riconoscono dai loro quadri e che dimostrano che Pordenone è sempre stata una realtà artistica degna di nota. Bruno Barborini, Esa Bianchi, Fausto De Marinis, Giuseppe Nicoletti, Giuseppe Onesti, Antonio Crivellari, Sergio Scabar, Guido Cecere, Gianni Passotti, Gianmarco Roccai, Flavio Val, Guerino Di Rindin e molti altri. Mi sono ritrovata a chiusura dell'attività dell'Associazione, con questo enorme patrimonio e con il desiderio di lasciare un segno che il Comune di Pordenone recepisse perché il Comune comunque per lungo tempo ci ha aiutati in vari modi e allora mi sembrava quasi una cosa giusta e dovuta che rimanesse un segno, una traccia di tutto questo. E allora abbiamo fatto una selezione degli artisti più meritevoli e abbiamo creato questa collezione di una sessantina di opere fra pordenonesi e non, anche sfondando nella Slovenia e quindi certe cose hanno acquistato un sapore più internazionale. La roggia ha significato molto per la città di Pordenone, sia come galleria sia come associazione culturale. Oggi quel patrimonio viene donato dalla signora Giovanna Lisa e Enzo Di Grazia al Comune di Pordenone. Il Comune di Pordenone, ma la città intera gliene sono grati, queste opere entrano nell'acquisizione del Comune di Pordenone e possono essere così ammirate da tutti qui al Museo Civico Richieri. Noi ovviamente sosterremo questa mostra con una serie di attività collaterali che ci aiutano a rilanciare i musei. Penso per esempio all'apertura fino alle 23 dei musei stessi in occasione del giovedì sotto le stelle il 6 e il 13 luglio. E poi anche tante altre attività collaterali come per esempio i concerti assieme alle visite guidate. Quindi ecco una serie di attività per avvicinare ancora di più i cittadini ai nostri musei e in particolare a questa mostra. L'esposizione è ad ingresso gratuito e sarà visitabile dal 24 giugno al 27 agosto da giovedì a domenica dalle 15 alle 19.